Il dolore accusato dalla sua opera d'arte è un dolore accusato dall'intera città di Pescara. Io stesso ne ho portato le cicatrici che poi si sono trasformate in segni di vittoria. Anche per questo sarei felice se un'altra opera d'arte del maestro giapponese Toyo Ito riguardasse l'Abruzzo. È l'auspicio che il presidente dell'Aggiunta regionale, Luciano D'Alfonso, ha espresso questa mattina in comune nel corso dell'incontro con l'archistar nipponico, autore dello Huge Wine Glass, che nel 2009 subì un cedimento strutturale 40 giorni dopo la sua inaugurazione. L'incontro di oggi, ha spiegato il sindaco Marco Alessandrini, vuole servire anche per sanare una ferita. E con il maestro inizieremo a discutere su quello che potrà succedere dopo quello che accadde sette anni fa con la rottura del calice. Come noto c'è una causa in corso e il 20 gennaio ci sarà uno snodo importante su questa vicenda. Le parti, ha spiegato il primo cittadino di Pescara, sono disponibili a porre in essere accordi transattivi, trattandosi di una richiesta di risarcimento di oltre un milione di euro. Il punto è capire dalla viva voce del maestro qual è il suo punto di vista in ordine alla possibilità di costruire nuovamente un'opera di quel tenore. Da un lato c'è la preoccupazione dell'artista che si possa ripetere il collasso, dall'altra ci sono la disponibilità e la rassicurazione di Clax Italia, l'azienda laziale che ha realizzato materialmente l'opera, in ordine ad una tecnologia in grado di permettere la realizzazione dell'opera. Siamo consapevoli della grandezza artistica dell'autore, dunque vogliamo ascoltare il suo pensiero, ottenendo la nostra prima idea, che sarebbe quella di replicare l'opera. Ma siamo anche disponibili, seguendo le indicazioni del maestro Toyo Ito, circa la possibilità di farne un altro. Quella di oggi, a concluso il primo cittadino di Pescara, è stata anche l'occasione per rivedere un grande artista che, come noi, vuole superare una ferita aperta nel 2009 e trovare una soluzione al fine di regalare alla nostra città e alla sua piazza un luogo di attrazione. L'artista giapponese arriva da Pescara con il suo staff e è stato molto prudente. Sono sincero, ci incontriamo con il sindaco per sapere come sarà il futuro e quindi con il tempo potremo chiarire tutta la situazione. Oggi vogliamo superare quella ferita e lo vogliamo fare per i cittadini di Pescara e per questa città che ritengo molto bella.